Salve a tutti e benvenuti nel rifugio appuntamento settimanale con il topolino libretto che questa volta è duplice ragazzi perché il topolino numero 3589 come potete vedere è uscito in duplice copia questa mattina ho acquistato in edicola la versione rossa con paperino arrabbiato mentre fortunatamente perché è una cosa strana che ormai topolino mi arrivi in abbonamento puntuale mi è arrivata la copia da abbonato blu la versione blu con paperino allegro quindi possiamo ufficializzare già ho avuto modo tramite i vari social di comprendere che agli abbonati arrivi solo la copia blu quindi ho potuto comprare in edicola solo la copia rossa abbiamo una bella diciamo simpatica situazione dove diciamo il collezionista anzi il non collezionista può scegliere la cover che piace di più mentre il collezionista deve è una regola non scritta recuperarle tutte e due alla fine è come se fosse questa rossa una variant visto che agli abbonati arriva quella blu però una variant da edicola a prezzo normale prezzo di 3,50 euro classico del topolino e non il sovrapprezzo che hanno le variant a tiratura limitata perché comunque nonostante penso che sicuramente questa copia abbia una tiratura più bassa rispetto alla blu perché appunto la blu è arrivata agli abbonati comunque si può ancora trovare visto che oggi è uscita a prezzo di copertina quindi andiamo a cambiare in quadratura e vi mostrerò nel dettaglio questi topolino eccoci qua dunque con la duplice copertina del topolino 3589 disegnate entrambe da Andrea Freccero e colorate da Mario Perrotta topolino con il sottotitolo e tu che paperino sei per farvi scegliere insomma in base al vostro carattere o come vi comportate giorno per giorno potete scegliere quale copertina prendere io mi rifletto sicuramente nella copertina rossa ovvero il paperino che si arrabbia e che esplode per un nulla ed è anche quella che mi piace di più di impatto però nulla a togliere a quella blu che è davvero molto molto carina a me piacciono molto le cover con gli sfondi ecco neutri che vanno a ricalcare un po' le copertine che uscivano negli anni passati ecco la cosa che non mi piace molto è proprio il sottotitolo qui e tu che paperino sei le avrei preferite pulite senza la scritta però tant'è come detto prima la copia blu mi è arrivata tramite abbonamento e la copia rossa l'ho presa in edicola vediamo che la copia in arrivo agli abbonati presenta anche sul retro un opuscolo spillato con all'interno tutte le pubblicazioni che stanno uscendo da librerie che si trovano anche sul sito della panini quindi un gradito regalo questi opuscoli non li vedevo dagli anni 90 primi anni 2000 credo che per adesso non aprirò la mia copia da abbonato però può darsi che successivamente lo farò anche perché penso che mettendo impilati i vari numeri in libreria ecco possa sembrare un po' brutto però per adesso me la tengo sigillata ma adesso tornando a noi con questo numero ho letto la versione rossa ovviamente vediamo il cariatira a paperopoli dove paperino pensa ecco quindi vuol dire non sta addormento che il vero pigro riesce a risparmiare anche sulle battute lasciando che siano direttamente gli altri a dirle al posto suo vediamo paperina che sta sclerando che li ora non mi dire che non sei tu che sei pigro ma sono io che sono stressata assurdo poi vediamo che ritorna alex bertani con il suo editoriale dove ci annuncia ragazzi grande sorprese per il prossimo anno scolastico tra virgolette di topolino perché lui considera le annate che vanno da settembre a settembre quindi ritornato dalle ferie inizia la scuola e inizia anche una nuova stagione per topolino e dice che farà alzare ancora di più l'asticella ci saranno novità ritorni saghe e anche storie autoconclusive ovviamente brevi o lunghe che siano e introduce su questo numero anche due nuovi sceneggiatori il primo è giovanni hacker e il secondo è nicolò testi che andremo a vedere a brevissimo e poi ci anticipa che settimana prossima ci sarà l'altra storia evento la seconda storia evento anzi diciamo che la terza considerando zio paperone e il decino dell'infinito e dopo la storia di paperino che diventa wolverine adesso vedremo paperino diventare tor settimana prossima quindi non vediamo l'ora di leggerlo vediamo la sketch cover le sketch cover di andrea freccero e guardate che belle che sono senza la scritta e tu che paperino sei e poi andiamo subito con la prima storia dell'albo ovvero paperino e il dilemma bevi di marco bosco i testi paolo de lorenzi e i disegni con i colori di manuel giarolli e quindi abbiamo una storia bevi ritornano le storie bevi già ne abbiamo viste qualcun'altra nel corso dell'anno quindi sono davvero molto felice perché mi riportano indietro agli anni 80 e 90 dove praticamente nascevano ecco le storie bevi molto molto belle la storia in oggetto ha a che fare proprio con le copertine ragazzi potremmo dire ovvero sulla dualità del carattere di paperino e noi in base alle nostre scelte decideremo se far comportare in una determinata maniera il nostro papero quindi che sia diciamo irascibile o che le prenda con filosofia le cose che le accadranno e questa cosa mi è piaciuta molto io per leggere le storie a bevi utilizzo il classico sistema e penso che utilizzino in molti ovvero che la prima volta lo leggo in base alle scelte che faccio e poi la seconda me lo leggo diciamo tutto insieme così per vedere tutte le sfaccettature è la prima versione che ho letto la prima scelta che ho fatto mi è piaciuta davvero tanto anche perché abbiamo un finale con lieto fine per paperino anche se quella versione è abbastanza breve infatti ero quasi deluso un po' dalla brevità della storia però poi andando a fare le altre scelte e vedere le altre sfaccettature la storia è molto lunga e anche molto particolareggiata le scelte sono davvero interessanti e fanno sbellicare da ridere tutte quante vediamo che i disegni sono davvero molto particolari i disegni di Paolo De Lorenzi si rifanno molto un po' allo stile frecceriano possiamo vedere però sono davvero puliti e mi piacciono davvero tanto i colori di Manuel Giarolli diciamo che non osano però rimandano proprio al classico del colore dei fumetti Disney in questo caso ci stanno mi sono piaciuti molto in base alla storia storia che promuovo a pieno proseguiamo poi con Gamba di legno e la gelosia canaglia questa appunto storia scritta da Giovanni Ecker nuovo sceneggiatore in casa Topolino e disegni del maestro Giorgio Cavazzano con i colori di Gaetano Gabriele D'Aprile qua già notiamo dei colori un po' più cupi che vanno a far diciamo riconoscere questa storia come noir potremmo dire c'è il classico forto perpetrato da Gamba di legno, sgrinfia e un altro socio di questa banda che si chiama Ganymede con un cognome Dendis se non sbaglio che si rifà appunto all'essere Dendi che è praticamente un casa nuova che ci prova con tutte le donne che incontra e questa storia avverterà anche sulla gelosia proprio di Gamba di legno nei confronti di questo Ganymede che fa gli occhi dolci anche a Trudi storia che mi riporta direttamente negli anni 90 sembra una storia proprio di quegli anni e mi è piaciuta anche questa davvero molto i disegni qui di Cavazzano sono tutti abbastanza di alto livello ecco non si nota la discrepanza di vignette che abbiamo notato da una storia del miliardo di Zio Paperone guardate che bella questa vignetta in notturna e qui proprio esplode il maestro Cavazzano molto molto bella e poi vediamo come ecco ovviamente non vi voglio dire nulla né della prima storia non vi ho detto nulla e nemmeno di questa per non spoilerarvi però anche questa storia ragazzi è realizzata in maniera ottimale dall'inizio alla fine pubblicità di Fast Track Mickey poi abbiamo la parola della settimana torna questa rubrica di Marco Dixit che ci farà scoprire il significato della parola Gatta Buia e anche i suoi sinonimi vediamo poi la rubrica Fumettando di Francesca Grati con il Pluto di ovviamente Alessandro Perina vediamo questo Pluto di profilo molto molto carino poi abbiamo un'altra storia con uno sceneggiatore all'esordio ovvero Rockerdac e la persecuzione del papero d'oro di Niccolò Testi per l'appunto e Lucio Leoni ai disegni e vediamo Martina Andonova ai colori vediamo che Rockerdac praticamente non ce la fa più a essere surclassato sempre dallo zio Paperone e appunto è andato addirittura a farsi visitare da un medico e il medico gli consiglia di prescriversi una vacanza per dimenticarsi del rivale ma vediamo che in qualunque luogo su pianeta Terra Rockerdac andrà ci sarà sempre la visione di zio Paperone fino a prendere la drastica decisione di andare direttamente su un pianeta nello spazio guardate che bella quest'altra vignetta dove vediamo i moai dell'isola di Pasqua con questo che sembra lo zio Paperone davvero questa storia mi ha fatto sbellicare dalle risate non è una storia lunga è una storia breve ma divertentissima ragazzi mi ha fatto morire proseguiamo poi con un articolo sulle meraviglie acquatiche di Gabriella Valera molto interessante è una storia brevissima di Enrico Faccini l'appetito viene ascoltando con protagonista Ceccio che dura praticamente due pagine proseguiamo poi con l'ultima storia dell'albo che inizia con un prologo e poi nella seconda pagina abbiamo questa doppia splash page con il titolo zio Paperone all'arcano artigiano che proprio ci esplode in faccia bellissima ragazzi di Alessandro Zisti ai testi Luca Usai ai disegni con i colori di Andrea Stracchi vediamo un Andrea Stracchi di nuovo preponderante sul topolino di questo sono davvero felicissimo speriamo che possa avere ancora più spazio sul topo vediamo la storia che è ambientata a Venezia zio Paperone incontra stranamente Pico che lo aspettava e sta dicendo appunto a Pico che si trova a Venezia perché le sue spie gli hanno detto che appunto gli hanno riferito che Amelia si trovava lì e quindi siccome non si fida di Amelia lo zione pensa che che lì stesse architettando qualcosa contro di lui però andando avanti nella storia si imbatteranno nella leggenda del principio filosofale ecco che non è la pietra filosofale ma è un'altra cosa fatta realizzata questo principio filosofale da un un alchimista che si che si chiamava Cinabro Atanorius questo alchimista particolare quindi sarà una storia una classica caccia al tesoro però con un colpo di scena finale anche questa storia mi è piaciuta tanto ecco alla fine avevo già mangiato la foglia fin dall'inizio sapevo come sarebbe andata a finire però è comunque molto divertente i colori di Andrea Stracchi molto naturali e i disegni di Luca Usai sempre pulitissimi davvero molto chiari qui abbiamo un'intervista a Sergio Badino e Giulia Lomorno per quanto riguarda la nuova storia di Minnie Petta Porter che uscirà la settimana prossima e poi un bel articolo sulle Adrenaline che usciranno allegate a Topolino nelle prossime quattro settimane quindi altri quattro numeri da comprare in edicola ragazzi però la particolarità che vediamo ci saranno le squadre complete sia di Topolino che di Paperopoli quindi si potrà comunque giocare con queste due squadre perché prendono proprio il sistema di gioco queste carte delle Adrenaline già qualche anno fa uscirono dando vola una carta di Lorcan uscirono le Quackball cards che erano sempre delle carte sulla farsa riga di Adrenaline che anzi potevano anche essere incluse con un codice all'interno dell'applicazione di Adrenaline però qui avevamo diciamo poche card che se non sbaglio però venivano anche forse regalate con l'albo mentre in questo caso abbiamo proprio anche con sovrapprezzo due squadre complete di Paperopoli e Topolinia e la magagna più grande però ragazzi è stata quella di Paperino possiamo vedere che per prendere questa carta speciale dobbiamo comprare lo starter pack di Adrenaline che costa 10 euro quindi per gli appassionati solo di fumetto Disney che vogliono avere la raccolta completa di queste carte devono spendere 10 euro per avere solo Paperino e io potevo non comprare questo starter pack ragazzi solo per ricevere come detto una card una singola card e adesso andiamo a vedere subito dove si trova questa card perché l'ho ributtata all'interno eccola qua ragazzi la carta usciva in questa bustina blu ed eccola qui bella è bella sicuramente ragazzi però stiamo parlando di 10 euro per una card perché questo è ok voi vi direte nessuno vi obbliga però la panina ormai ci marcia su sta cosa sfruttando la mania di completismo dei collezionisti sfrutta l'occasione ecco io la vado anche a slivare visto che ormai sono esperto in questo genere di cose possiamo vedere anche come le dimensioni siano più o meno le stesse si sono identiche alle quack ball cards però ecco già questa comunque è molto bella e utilizza la stessa trama diciamo la stessa olografia delle carte speciali quelle dei calciatori io qui ho le altre tre carte ecco limited che escono sullo starter che sinceramente non me ne faccio nulla quindi possiamo vedere come sono identiche in tutto e per tutto possiamo vedere guardate ci sono i parametri di attacco di difesa la potenza quindi questa carta come le future carte disney che usciranno di adrenalin saranno giocabili io ovviamente non le comprerò per giocarci ma per collezionarle davvero una una bella iniziativa che però ragazzi viene macchiata dal costo esorbitante che dobbiamo spendere per prenderci la carta di paperino vediamo poi la posta di lettori con nuovi giovani lettori sempre di più appassionati al topolino e ciò mi rende davvero molto molto felice e poi abbiamo l'anticipazione del prossimo numero come possiamo vedere ci sarà una copertina a tema calcistico molto interessante l'avevo già vista però una gag del genere con il retro copertina dedicata a paperino torco copertina questa che veramente mi fa inorridire e poi vediamo le storie mini preta porter due episodi episodi 1 di 2 e 2 di 2 paperino paperoga e l'inafferabile pallonar di roberto gagno e alessandro perina zio paperone e le voci nello spazio e paperino diventa torco what if è la prima di 4 dell'adrenaline poi abbiamo la one shot il commissario indaga i condomini e la pubblicità sulla coin di paperino e paperinic e come se non bastasse sulla quarta di copertina vediamo sempre la pubblicità sulle adrenaline ecco vediamo anche che ci sarà quest'astuccio io penso di non utilizzare visto che ho speso 10 euro per prendere lo starter pack a questo punto mi imbusterò tutte le card e le inserirò in quello starter pack toglierò la copertina dedicata ai calciatori inserirò anche queste così ecco avrò una raccolta di tutte le card dedicate alle adrenaline della disney ragazzi questo è il numero 3589 di topolino è un numero che mi è piaciuto davvero molto e che se devo dare la mia solita valutazione valuto con un bel 9 e mezzo ragazzi perché mi è piaciuto davvero tantissimo e se devo fare la mia solita classifica metterei abbiamo uno due tre quattro cinque storie al quinto posto l'appetito viene ascoltando perché davvero brevissimo i faccini e non mi ha fatto neanche così ridere al quarto posto metto vediamo un po' vediamo un po' zio paperone l'arcano artigiano perché per quanto l'ambientazione i disegni siano spettacolari comunque una storia che mi sa un po' di già visto e poi ho scoperto subito ecco come andava a finire al terzo posto metto gamba di legno e la gelosia canaglia perché mi ha divertito davvero tanto la storia sul gioco appunto di gelosia tra gamba di legno e minni al secondo posto rockardack la persecuzione nel paperodoro che mi ha fatto morire dalle risate e al primo posto ragazzi paperino e il dilemma a bevi perché ogni scena che entrava in base alle nostre scelte mi faceva mi faceva morire da ridere davvero una storia a bevi divertentissima come non ne leggevo da molto tempo ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo numero di topolino io con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao ciao